nuovo appuntamento con SOS Aghezzo TV bentornato Beppe ciao dove siamo oggi tra l'altro sai che da quando il PD non è più il PD una volta non arriva neanche l'acqua si ora ne iniziamo anche a questa non arriva neanche più l'acqua qui ragazzi è acceso a orari la sera è molto bella si la sera è molto bella tutta illuminata tutti colori si vede che stai tuolo che città non la bazzichi è molto molto bella questa sera vieni qui in piazza Sant'Agostino ogni tanto si mangi un gelato c'è un po di musica vengo a cantare no cantare no questo è un feudo di Enzino quindi no non si può venire qui a cantare di chi è il feudo di Enzino maestro non è Enzino è il maestro e quindi è giusto che ci venga lui qui senti ma hai portato qui per cosa non ci ho portato io è una bella piazza storia senti che aghia di lutto percepisci il lutto senti senti che aghia si questo silenzio ma i miei vecchi mi hanno sempre detto che il malvoluto non è mai troppo chi è che voleva il male del PD il male del PD lo vogliono tutti coloro i quali lo gestiscono oggi e questi sono i risultati quando si vogliono per forza propinare alla gente personaggi candidati che non sono amati ma che fanno comodo soltanto a una certa parte del partito questi sono la parte di Enzi alla parte del PD anche a Rezzo hanno fatto le primarie in teoria hanno scelto gli elettori del PD in pratica poi invece c'è andata anche gente che lasciamo noi entriamo nel discorso entriamo nel discorso che le primarie fanno molto 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 male le primarie sono diciamo infiltrate da chi vuole manipolare il risultato anche logicamente come faceva la vecchia di Citi ricordi no te sei giovane ancora non lo sai come portavano a votare anche in barella pur di avere i voti ecco si qui insomma si vogliono propinare personaggi che non sono amati e quindi questi sono i risultati poi si creano divisioni discrasie e malumori fra i candidati stessi e di modo che anche coloro che perdono i primari poi si candidano oppure fanno poi basta incontrare quando vanno a votare e questi sono i risultati quindi secondo questa tua teoria se a Montevarchi ci fosse stato solo grasso avrebbe vinto avrebbe vinto tranquillamente al primo turno non lo so se al primo turno ma avrebbe vinto tranquillamente perché il PD sarebbe stato unito e avrebbe votato per il grasso a Sansepolcro non lo so perché il sindaco Sansepolcro non era molto amato non era molto amato quindi di conseguenza ci poteva stare che qualche problematica potesse venire ma tu fa l'analisi di quello che è successo da quando ci sono in maggioranza questo tipo di condizioni del partito quello che è successo hai perso Castigliano Frentino hai perso Subbiano hai perso Monterchi hai perso Arezzo Arezzo e nessuno si è dimesso nel comitato comunale per emissione di Arezzo Montevarchi Sanghiaghi Anghiari Caprese tutti i comuni Caprese l'hai perso la volta precedente tutti i comuni persi piano piano si arriverà che la provincia di Arezzo notoriamente rossa diventerà una di maggioranza centrodestra adesso con la vittoria di Grosseto voglio vedere cosa succede nella Toscana di Arezzo saranno molti problemi con la vittoria di Grosseto cambieranno molto gli aspetti infatti a Siena qualcuno già trema chi è che trema qualcuno del partito perché logicamente avendo due province di centrodestra e uno di centrosinistra a Cassianapa anzi che abbia avuto dei problemi nel gestire l'area vasta comunque sia proseguiamo questa strada e quindi di conseguenza perdiamo tutti i comuni di Arezzo e della provincia di Arezzo e poi si vedrà poi quando rimarrà il deserto in piazza Costino forse qualcuno si deciderà a fare qualche mossa qualche passo per dire basta è l'ora di cambiare abbiamo rottamato tutti i vecchi fanno tutti rottamati beh basta hanno fatto politica una vita ci vogliono i giovani ci vogliono i giovani io sono d'accordo che ci vogliono i giovani perché ricambiano i giovani però ci fanno anche le chiocce perché senza chiocce i giovani non vanno nessun posto il segretario Dindalini si è non è che si è dimesso ha dimesso il mandato all'assemblea è stata l'unica persona seria in questo momento perché effettivamente da segretario paga le colpe di tutti anche se non sono tutte le sue questo è evidente però paga le colpe di tutti e l'unica persona seria che ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto cioè rimettere il mandato è stato lui cosa che non è stato fatto in nessuna elezione precedente nonostante le batoste prese a partire purtroppo da quella di Arezzo alla fine si pagano tu hai citato le aree vaste così mi pare che queste aree vaste fanno acqua un po' lappertutto quindi i cittadini sono un po' stancati anche di questo e gli artifici sono stati è stato il pd c'è un po' vado a fare il problema è stato questo noi avevamo delle aziende partecipate che funzionavano tutte e che portavano ferdi soldini all'amministrazione comunale con l'area vasta i comuni hanno dovuto pagare perché i soldini non vengono più perché nelle società partecipate ci sono un sacco di problemi però se non facevamo così non c'era soluzione alternativa vista come era detto che guadagnavano perché allora le devi dare via non ho capito perché se non partecipavi a queste fusioni a questi insiemi che venivano creati non avresti poi avuto le caratteristiche per partecipare ai bandi di gara per la sensazione del servizio non avevi le caratteristiche quindi le avresti persi comunque e quindi ho buttato collo hai dovuto per forza partecipare a questo tipo di società il comune da sola non poteva continuare a gestire i rifiuti non lo poteva fare avrebbe perso tutto avrebbe perso tutto perché sarebbero arrivati colossi di partecipate di aziende grosse che avrebbero poi preso tutti i servizi e l'unico modo per poter rimanere a galla e poter comunque garantire una continuità di servizi era quello di creare queste aziende infatti questi servizi costano di più i comuni non ci guadagnano abbiamo fatto questa aziende perché dobbiamo risparmiare unendo tutti i servizi diminuendo quindi consigli amministrazioni con le sindacali personali servizi doppi amministrazioni e invece spendiamo di più e anche tutti spendono di più tutti i servizi magari sono anche peggiorati forse o sono uguali sono uguali insomma quindi io poi non sono così convinto che ci saranno tutti questi cambiamenti perché sai e macri dice li accerchiamo ghinelli dice cambierà tutto ma se fosse per lui sicuramente e avremmo stravinto la per tutto se non c'era qualcun altro è capito ma lui chi hai fatto un nome se fosse stato per lui avremmo stravinto la per tutto perché ha fatto qualcosa che non doveva no non è che ha fatto qualcosa non doveva non rappresenta nessuno questa città lo rappresenta pochissimi dice che comunque ha contribuito è logico per la sua fratelli che hanno avuto ha contribuito nel suo piccolo comunque questo per concludere a volte quando cambia tutto io nel senso voglio vedere cosa poi cambierà nel concreto in questi rapporti perché poi al di là degli schieramenti politici ma in quanto qualcosa c'è stato vedi il sindaco nominato presidente del lato rifiuti è stato già un qualcosa di eccezionale in una terra amministrata alla sinistra il presidente di ha esempianti che rimane in carica è un altro segnale insomma qualcosa qualche segnale sta arrivando sicuramente qualche accordo verrà fatto e d'altronde non c'è non c'è soluzione d'accordo vanno fatti anche le tapparelle lì della sede del pd è tutto chiuso guarda che sono messa anche male proprio un'aria di decadenza è la metafora è la metafora della situazione ma io penso che qualcuno si arroccerà le maniche e se lo farà sicuramente riprenderà quello che deve riprendere senza tanti problemi non aver paura ciao basta fare quello che deve essere fatto ciao